Lo scandalo della Lega con i soldi del finanziamento pubblico destinati alla famiglia e ai famigli di Umberto Bossi segue di poche settimane quell'altro scandalo incredibile di Luigi Lusi con appropriazioni in debite dei fondi della Margherita. Questi due episodi hanno suscitato allarme, reazione, una giustissima reazione da parte dell'opinione pubblica e hanno riaperto la questione del finanziamento pubblico ai partiti. Ora, il punto è che i controlli sui bilanci dei partiti sono stati fin qui insufficienti. Ora è in campo una nuova proposta che prevede una certificazione dei bilanci, un controllo da parte di organismi terzi, quale può essere la Corte dei Conti, sanzioni molto severe per chi trasgredisce alle norme di trasparenza che vengono imposte, sanzioni fino al dimezzamento, all'eliminazione dei fondi pubblici. Tutto questo è necessario perché i fondi sono pubblici e quindi è necessario che in tutte le fasi di questo passaggio, gestione, utilizzo dei fondi destinati ai partiti, ci deve essere un controllo pubblico. È pubblico nel momento in cui viene dato ai partiti, è pubblica la decisione di quanto dare ai partiti, pubblica deve essere l'utilizzo, il controllo sull'utilizzo di questi fondi. Questo fin qui non c'è stato. Però se usciamo dall'ipocrisia di alcune polemiche che sono sorte attorno a questo tema, è evidente che al fondo c'è un'altra domanda. Sono giusti o no i fondi, i finanziamenti ai partiti? Ecco, a mio giudizio sono giusti. È impossibile che una democrazia non può vivere senza partiti e i partiti non possono vivere, non possono competere alla pari se non sono sostenuti da un finanziamento pubblico. Altrimenti la politica viene meno al principio per cui è nata, cioè quella di consentire una competizione tra gli interessi in campo e consentire anche alle classi più deboli di poter far sentire la propria voce. Altrimenti la democrazia che avremo sarà una democrazia in versione molto oligarchica e tecnocratica in cui ovviamente chi ha di più è in grado di controllare meglio la gestione della cosa pubblica. Ora naturalmente dire che il finanziamento pubblico è giusto è un principio che naturalmente fa chiarezza su alcune delle polemiche che sono in campo oggi. Ad esempio chi sostiene che i partiti debbano rinunciare alla seconda rata sostiene che equivale circa l'80 al 90% del bilancio medio dei partiti vuol dire che non vuole che i partiti possano sopravvivere. Ora è evidente che dietro molte di queste discussioni di questi giorni ci sono delle opinioni molto radicali sul tema. Naturalmente queste cose vanno discusse apertamente. Detto però che essendo io tra i sostenitori del finanziamento pubblico va anche detto che questo finanziamento pubblico è ora che esca da un'altra ipocrisia perché dopo il famoso referendum sul finanziamento pubblico di molti anni fa si è trovato un escamotage che naturalmente copre il problema, elude, aggira il problema. Il finanziamento pubblico oggi viene elargito attraverso una forma, viene chiamato rimborso elettorale. Ora io credo che il finanziamento pubblico debba essere articolato diversamente e debba avere nel futuro tre pilastri. Uno appunto un rimborso elettorale però con un tetto massimo molto inferiore a quello attuale e con la certificazione di spese certe per tutti i partiti che superano una determinata quota di consenso. Poi a mio giudizio ci deve essere un finanziamento pubblico dato alle strutture nazionali dei partiti che deve essere proporzionato alla loro rappresentanza parlamentare, anche questo deve essere molto misurato e poi ci deve essere una possibilità, un'agevolazione per chi vuole dare dei contributi volontari ai partiti. A proposito in questi giorni ho sentito che la proposta che hanno fatto i tre partiti della maggioranza è di ridurre da 50 mila euro a 5 mila euro il versamento anonimo, quindi basta che il versamento superi 5 mila euro deve essere registrato. Questo mi sembra una buona misura di trasparenza. Il problema è che per completare questo percorso, per sciogliere questo nodo, ci sono altri due passaggi da fare. Uno è l'attuazione dell'articolo 49. Se è vero che la democrazia non può fare a meno dei partiti e se è vero che i partiti devono avere un finanziamento pubblico, deve essere anche vero che i partiti devono avere una struttura democratica. Noi in questi vent'anni di Seconda Repubblica abbiamo avuto il prevalere di partiti personali e carismatici, dove al cittadino veniva data la possibilità di applaudire questo o quello e al limite di scegliersi un altro leader da sostituire con quello che eventualmente aveva deluso l'elettore. Invece i partiti devono essere un luogo dove si può vivere la vita politica, si può partecipare, si può scalare insieme ad altri, competere per la leadership e per la guida, per l'indirizzo politico dei partiti. Bisogna costruire degli statuti democratici che consentano ai cittadini non di applaudire questo o quel leader, ma di partecipare alla vita dei partiti, di combattere la loro battaglia all'interno dei partiti, per far prevalere le loro idee e insieme ad altri eventualmente per sostituire le leadership esistenti. L'ultimo passaggio di questo percorso, per coerenza, se non vogliamo una democrazia oligarchica e tecnocratica, è la riforma della legge elettorale. Il porcellum è una vergogna assoluta e attenzione, tra tanti di coloro che oggi parlano male del porcellum, ci sono quelli che non vogliono cambiarlo. Il porcellum ha un cancro, si chiama maggioritario di coalizione, è lo strumento che nella Seconda Repubblica ha coperto quel presidenzialismo di fatto che è stato il cappello che si sono messi in testa i partiti personali ed è stato lo strumento per demolire gli equilibri della nostra Costituzione. Speriamo di arrivare a un sistema europeo in cui i partiti competono alle elezioni e il leader del partito che prende più voti, leader democraticamente eletto in quel partito, diventi premier a capo di una coalizione parlamentare. Avviene così in tutta Europa, con tutti i sistemi. Non capisco perché non possa avvenire anche in Italia.